Le donne devono avere un parto in tutta sicurezza e da questo si arriva grazie ad un'attenta valutazione delle gravidanze. Ecco le cinque proposte messe in atto dall'ospedale infermi di Rimini spiegate dalla dottoressa Gina Ancora, primario della terapia intensiva neonatale di Rimini, anche a nome delle società scientifiche e dei neonatologi ed è tornata a ribadire l'importanza delle cinque proposte per migliorare la sicurezza di madre neonato rispetto ai punti nascita. Questo a margine dell'inaugurazione di un'apparecchietura ecografica da parte dell'associazione Rimini solidale Ollus. Con questo manifesto cinque società scientifiche sono tornate a parlare della sicurezza della gravidanza e del parto e lo fanno andando a puntualizzare due principi fondamentali. Da un lato proteggere la fisiologia del parto, quindi la naturalità del parto che vuol dire ritardato clampaggio del cordone umbilicale, contatto per le pelle subito dopo la nascita per favorire l'allattamento al seno e vicinanza del bambino in stanza con la mamma senza nessuna separazione. Dall'altro la sicurezza vuol dire consigliamo alle famiglie di scegliere dei punti nascita in cui ci sia esperienza nella cura di mamma e neonato e quindi che abbiano almeno mille nati all'anno per poter permettere a tutti di affrontare in sicurezza le rare ma possibili emergenze che si verificano al momento del parto per mamma e bambino. Stiamo facendo questa informazione sulle famiglie e dall'altro canto abbiamo lavorato sulle istituzioni sempre come società scientifiche ribadendo l'importanza dell'accorpamento dei punti nascita perché dove questo è accaduto si è verificato un dimezzamento della mortalità dei neonati e un dimezzamento dell'incidenza di asfissia.